Il buon samaritano sulla strada della solidarietà in questa città, anche in questa fiera del volontariato per sottolineare cosa? Per dare anche noi il nostro modesto contributo a questa bellissima manifestazione che sancisce ancora una volta che Foggia è una città di solidarietà, di grande solidarietà, di grande volontariato, accogliamo tanti migranti, siamo disponibili ad aiutare la gente in difficoltà e questo con una punta di orgoglio, come foggiano lo dico, Foggia è una delle città più accoglienti, più solidarie dell'Italia. Che cosa manca? Ma manca un po' più di ottimismo, credere nel futuro e credere ed essere consapevoli che possiamo uscire da questa situazione di impasto.